Incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 92 in territorio di Belpasso. Due i mezzi coinvolti nello scontro, un'auto e una moto. A causa del forte impatto il motociclista è finito in un burrone. Arrivati sul posto un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e i carabinieri della stazione di Nicolosi. Diverse sarebbero state le ferite riportate dal Centauro. Richiesto dal personale medico l'intervento dell'elisoccorso. Il ferito è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Cannizzaro di Catania, riservata al momento la prognosi. Al vaglio delle indagini la ricostruzione della dinamica dell'incidente.